Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Io sono Reppi E questo è un nuovo video da Kyoto per ItaliaGefan.net Questa mattina siamo venuti nel Nishiki Market Che è il più importante mercato di Kyoto E voglio farvi un po' vedere tutti questi negozietti fantastici Qui dentro ci sono una quantità di negozietti incredibili I ragazzi vendono qualunque tipo di specialità della zona di Kyoto e del Kansai E pensate che questo mercato si sta addirittura dal 1615 Quindi è una storia e una tradizione incredibili Siccome adesso abbiamo un po' di fame e mangeremo qualcosina Wow, guarda questo Com'è? Ma è una porzione quella cosa lì Questa ragazzi è una porzione Fantastico Assaggia Mangialo tutto dai Oh brava In origine questo mercato nel Nishiki Market era un mercato del pesce Infatti come vedete ancora oggi sono tantissimi banchi che vendono pesce, sashimi, pesce essiccato Veramente di ogni genere Guardate questi che buoni Questo cos'è? Spezie Spezie, sì Questo ragazzi è una specie di mochi Quindi è un dolcetto che deriva dal riso Però fatti in una maniera un po' particolare che non l'ho mai mangiato Proviamolo insieme Cosa c'è dentro? Atsuki Buonissima Sì Fantastico ragazzi Non avete idea quanta voglia ho di buttarmi su questi banchi e mangiare tutto quello che c'è Qui cosa abbiamo? Alghe di ogni genere Fantastico Queste sono tante varietà di tè Questi sono veramente fantastici Questo qua l'ho già provato E' buonissimo Fantastico Che buon profumo Questa roba deforme, non so cosa sia Siamo arrivati al termine del Nishiki Market di Kyoto E qui in fondo La nostra camminata si conclude con un bel tempietto Entriamo dentro Oddio una mucca Se si fa una mucca qua Intora E siccome siamo nella zona dei ristoranti ragazzi io vi saluto perché ho qualcosa di molto più importante da fare che rimanere qua in vostra compagnia E quindi chiudo qui questo video dal mercato di Nishiki Per oggi è tutto Anche lei vi saluta Fai ciao Ciao E noi ci vediamo al prossimo video dal Giappone Ciao 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 Ciao